Si sono presentati tutti a 75, dal più giovane al più anziano in ruolo. Volevano bloccare i camion diretti al cementificio, ma alla fine ne sono transitati ben pochi e sono anche entrati. Perché qui, nonostante i mesi di cassa integrazione alle spalle siano ormai lunghissimi e le prospettive fosche, nessuno vuole danneggiare l'azienda e tutti sperano che la trattativa, con la proprietà aperta e chiusa nell'arco di un pomeriggio dopo un mese di proteste, possa ricominciare. La questione è complessa. Cementi Zillo lo scorso anno ha messo in cassa integrazione questi lavoratori dello stabilimento storico di Este, ma ha anche comprato lo stabilimento ex radici di Monselice, di fronte al quale oggi i lavoratori hanno protestato perché sostengono qui dentro arrivano anche le produzioni che avrebbero dovuto essere lavorate ad Este. La proprietà, quando si tratta di riassorbire personale, sostiene che le due realtà sono distinte, ma quando si tratta di produrre non fa distinzioni. E proprio sull'ipotesi di riassorbire a Monselice i lavoratori di Este, la trattativa si è interrotta bruscamente. Abbiamo avuto una trattativa ieri, dopo appunto un mese di proteste. L'azienda nuovamente non ha rispettato l'impegno che si era preso, sia per quanto riguarda le richieste che facciamo noi, di una chiarezza sul futuro occupazionale dello stabilimento di Este, e anche per una garanzia di quello che è il sostegno economico a questi 75 lavoratori che rischiano che il loro stabilimento venga chiuso. È il reinizio di una protesta forte che siamo pronti a continuare se l'azienda non dà nessun spiraglio di apertura su quello che chiediamo. La situazione si fa sempre più preoccupante? Sì, purtroppo la crisi è durissima, però qui manca un senso di responsabilità, in questo caso della proprietà Zillo, e manca anche un'affidabilità nelle trattative, un giorno una cosa, un giorno un'altra. L'azienda afferma che i due stabilimenti sono due entità separate, Este e Monselice. Purtroppo però anche questa mattina in presidio qui abbiamo visto uscire un camion con i sacchi cementi Zillo, ma usciva dalla cementeria di Monselice. Paradossalmente quante persone potrebbe assorbire questo stabilimento alle nostre spalle? Ecco, su questo sarebbe interessante fare un ragionamento su cui la proprietà non vuole entrare. Secondo noi sono molte unità, bisogna gestire anche attraverso la solidarietà, attraverso una riduzione degli orari. Si può gestire? Più si avvicina la data della fine della cassa integrazione, più i lavoratori sono preoccupati. Per ora il presidio continuerà e i sindacati premono sulla regione per ottenere un tavolo di discussione con l'azienda, perché per uscire da questa situazione servono due cose, una strategia e un dialogo aperto con l'azienda, che per ora non sembra volerne sapere, gettando nello sconforto i lavoratori e le loro famiglie.